per il ciclo un mondo giusto io sono il fratello di oscuro io pure sono l'america un dibattito inizia con una proposta con un'idea eccola c'è qualcuno in città che non è molto contento di queste sue iniziative diretto e interpretato da denzel washington il potere della parola venerdì alle 20 e 55